E allora lasciamo da parte la politica locale, quella che si fa a vittoria, fra qualche giorno andremo a votare, avete sentito, e però parliamo di politica un po' più vasta, dalla nazionale alla regionale. Con noi abbiamo l'onorevole Stefania Campo. Allora, onorevole, prima di tutto, prima di tutto, parliamo di questa novità del Movimento 5 Stelle, che ora avete fatto 2050, cioè un movimento che guarda davvero al futuro. Cosa sta succedendo in questo che partito non è, ma movimento nuovo? È vero, è cambiato il nostro logo, si è aggiunta la scritta 2050 sotto, proprio perché c'è la prospettiva di lavorare per il futuro, sempre con i temi che sono i nostri cavalli di battaglia, che sono chiaramente molto legati alla tutela dell'ambiente. Abbiamo un capo politico, c'è da dire che il Movimento 5 Stelle per molto tempo, anche a causa della pandemia, è stato privo di capo politico dopo le dimissioni che aveva dato Luigi Di Maio. Quindi adesso abbiamo l'ex Presidente del Consiglio, Conte, che è il nostro nuovo capo politico. Sì, ha riempito le piazze, ha fatto un tour in tutti i comuni che andavano al voto, compresa appunto la città di Vittoria. E questo è un nuovo corso per il nostro movimento, perché anche a fronte di alcune riunioni che abbiamo fatto con i famosi stati generali, si sono un rimodulate quelle che sono le regole del Movimento 5 Stelle. Ecco, questo è il nuovo logo. Ecco, questo sì, è il nuovo logo, soprattutto legato anche a questo nuovo ministero all'ambiente, all'ecologia, perché si punta appunto… Sì, ma 2050, diceva beh, fra 30 anni, non è forse una visione un po' troppo lontana, quando noi abbiamo i problemi da ora a sei mesi? No, perché in realtà lavorare per sempre l'emergenza, per quello che succede domani, è giusto chiaramente quando ci sono le emergenze, però in politica bisogna avere anche una visione, cioè bisogna lavorare anche per le future generazioni. Molte volte ci accorgiamo che i disastri che viviamo tutt'oggi sono stati causati nei decenni del passato, perché non c'era questa visione. Faccio l'esempio, per esempio abbiamo sempre parlato delle questioni legate a Macconi, delle sere sulle spiagge, l'acqua, l'abusivismo, ecco prima c'era una sensibilità diversa e quindi si sono creati dei disastri, bisogna lavorare chiaramente non per se stessi, ma per le generazioni future. E va bene, questo 2050, giustamente si guarda lontano e fa bene, io avrò 100 anni, magari vorrei votare. Ci siamo dati un tempo che non è un futuro troppo lontano, ma neanche vicinissimo, il tempo giusto per poter cambiare un po' quella che è la gestione dei rifiuti, dei trasporti, perché chiaramente nessuno ha la bacchetta magica, le cose non si fanno da un giorno mai. Magari nel 2050 voleremo, la spazzatura la facciamo diventare come faceva Età Beta, sai, Comolino e Età Beta le fa diventare tutte cose. Bisogna arrivarci chiaramente in maniera graduale facendo giorno per giorno le scelte più, diciamo, di buonsenso e più sensate. Questo a livello nazionale vale che ora hanno fatto i nuovi, i cinque vice, ma non ce ne è siciliani? No, no, stasera stessa sono stati nominati i cinque vice che affiancheranno Conte, c'è Alessandra Todde, vice ministro all'economia, Paola Taverna. Non ci sono siciliani però? No, in questo organico non ci sono siciliani, ma Conte sarà affiancato da altri 21 consiglieri da tutte le regioni e poi a brevissimo, e ormai aspettiamo che finiscano gli ultimi ballottaggi che abbiamo anche qua in Sicilia, a brevissimo verranno nominati i responsabili sia regionali che territoriali. Ci sarà come i partiti di una volta, il segretario regionale, il segretario provinciale e quindi come si vota? Con la piattaforma Russo o si vota con la scheda? No, no, queste saranno nomine che verranno appunto decise dal capo politico e da tutte le figure che lo affiancheranno e devo dire che senza insomma voler paragonare il movimento al partito di una volta, perché comunque il movimento ha dato una grande svolta alla politica, però una struttura chiaramente essendo diventati forza di governo, essendo anche la prima opposizione alla regione, era fondamentale, è fondamentale avere una struttura e avere anche i responsabili locali, anche provinciali, regionali. Quindi ci sarà anche quello che noi chiamiamo segretario, ma questo non è un partito di un movimento, ci sarà un referente provinciale che verrà scelto dagli iscritti o appunto anche qui sarà una scelta? No, no, io penso che sarà sempre una scelta legata sia al capo politico e anche al referente che è regionale. Va bene, onorevole Campo, leviamoci mano su questa vicenda. A breve sapremo. A breve sapremo, ora verremo, come dice un famoso filosofo del passato, verremo. Parliamo invece di questa piccola polemica che c'è stata nei giorni scorsi, perché come dicevano sempre gli antichi filosofi, dice ogni fegatello di mosca è sostanza, quindi se tu su un miliardo pigli 10 milioni, su buone ma su pochi. Ecco, questa storia dei finanziamenti per il nostro territorio che l'onorevole Campo ha detto li abbiamo avuti, qualche altro ha detto sì li abbiamo avuti, però troppo poco. Qual è la, come la vedete voi? Allora, io racconto un po' quello che è successo. Nel mese di luglio più o meno ci sono stati parecchi incontri in commissione bilancio dove venivano approvati i progetti a valere dei fondi FSC che sono dei fondi europei. In quella fase sono stati stralciati parecchi progetti perché non erano esecutivi e quindi c'erano delle risorse che avanzavano. Io fin da allora mi ero resa conto che per il territorio di Ragusa c'era qualcosa che noi abbiamo votato chiaramente, ma era molto poco, quindi mi sono premurata di chiamare l'amministrazione comunale, di farmi mandare tutto quello che era progetto esecutivo, perché solo progetti esecutivi si potevano inserire, il sindaco mi ha mandato la progettazione del teatro Concordia per completare i lavori, già i lavori sono iniziati, del castello di Donna Fugata e della cancelleria per un totale di 11 milioni di Euro. In quella fase, anche facendo leva sul fatto che la maggioranza ultimamente è spesso assente, siamo riusciti come Movimento 5 Stelle a fare inserire questi 11 milioni in più. E chiaramente io ho esultato perché portare 11 milioni nel proprio comune in un momento in cui questi fondi non c'erano mi è sembrato un grandissimo risultato. Devo dire che c'è stata una delusione successiva perché quando poi si è fatta la delibera di giunta per approvare questi fondi, nonostante a livello tecnico la commissione li avesse approvati, qualcuno li ha tolti per farli arrivare ad altre province, giusto? E quindi sono venute meno le risorse, questa è una scelta politica dell'amministrazione musumeci, sono venute meno le risorse per il castello di Donna Fugata e per l'ex cancelleria, sono rimasti 2 milioni per il teatro Concordia. Chiaramente io sono contenta per questo risultato raggiunto, è chiaro che non è una pioggia di fondi, è chiaro che siamo sempre la cenerentola della regione come provincia perché purtroppo, io l'ho detto tante volte, questo governo è palermocentrico, cataniocentrico soprattutto, a volte anche messinocentrico che sono i tre comuni più grossi che fanno un po' da padroni quando c'è da spartirsi fondi regionali. Però bisogna dare merito alle opposizioni perché è chiaro che il Movimento 5 Stelle è sempre compatto e vota per riuscire a portare le risorse nei territori, ma abbiamo tante volte anche condiviso questo percorso con l'altra opposizione, con i colleghi del PD, bisogna dare merito alle opposizioni di essere riusciti, nonostante non siamo forza di governo, a portare delle risorse economiche nel territorio. Io penso che quando ci sia da poter comunicare ai cittadini delle cose e prendersi i giusti meriti, bisogna farlo. Ora, fra l'altro, ci dovrebbe essere la nuova programmazione, i nuovi fondi FSC, quindi ci saranno ulteriori risorse. Ora ci sarà la corsa alla dirigenza però, perché l'attacco alla dirigenza, perché fine... Ora ci saranno ulteriori risorse, sì, questo è vero, però è anche vero che questa maggioranza non è più compatta e che molte volte sono le opposizioni... Non è in grado di gestire... No, molte volte sono le opposizioni a tenere l'aula, voi sapete che ci sono i soliti giochetti che si alza il tesserino per fare la conta, per vedere chi c'è e chiaramente alziamo il tesserino e manca il numero legale, con grande rammarico perché giustamente uno fa 300 chilometri, soprattutto noi che veniamo dalla provincia più lontana rispetto a Palermo, però scoprire che l'aula non può andare avanti perché manca proprio la maggioranza, chiaramente è una delusione. È una vergogna. Però questa cosa riesce... Magari mettendovi d'accordo con le opposizioni potreste anche riuscire ad attingere a un po' più di fondi. Sì, sì, ma io l'ho detto sempre, chiaramente ognuno svolge il proprio ruolo all'interno della propria forza politica, però i deputati di Ragusa siamo solo quattro e più volte, nonostante abbiamo visioni politiche diverse, abbiamo fatto squadra, perché purtroppo a Palermo ci sono 16 deputati, a Catania altre tanti, se non facciamo così è vero che in questa provincia non arriva. E questo è anche un viatico per il futuro, perché non si sa mai quale alleanze si possono fare. Bisogna aspettare i segretari regionali. Beh, sì, però devo dire che già c'è un dialogo fra le forze di opposizione, ci stiamo lavorando. Però onorevole, le devo tirare le orecchie, che l'ho detto ieri scherzando, scherzando, però... Allora lei grida, bello, questi soldi del teatro, che poi mi piacciono tanto, lei forse ricorderà che con il sindaco Piccitto, noi eravamo così, perché io gli parlavo sempre del teatro, e lui diceva il teatro, ora te lo facciamo, sì. Allora io ricordo... Un giorno voleva fare anche un foyer aperto, voleva fare una cosa tutta aperta, io ci dicevo voglio il teatro, voglio il teatro. Quelli di Modica, non lo dimenticherò mai, ci fu Piero Torchi, mi disse ricordati che è una città senza teatro, una città senza anima, quando loro inaugurarono il loro teatro, che poi è 400 posti, manco. Quindi non è che loro hanno inaugurato il San Carlo, hanno inaugurato un teatrino, anche noi, con 400 posti. Io ricordo benissimo... Lei è l'assessore! Ecco, posso parlare di questo? Allora, io ricordo benissimo tutta la vicenda, a parte che il nostro è il San Carlo, semmai perché fu soprannominato il San Carlo degli Iblei, proprio per la facciata molto particolare che ha. Allora, quando... A Napoli è tutta coperta ancora, perché... Sì, sì, no, vabbè, noi possiamo vantare sicuramente un teatro che ha un bellissimo prospetto. Quando la mia amministrazione si insediò, chiaramente c'era da sciogliere alcuni nodi sul restauro di questo teatro, perché, se ricordate, bene, era stato espropriato, però poi il dottor Grana fece causa, quindi il comune dovette pagare 900 mila euro in più, quasi un milione, facendo debito fuori bilancio, poi con l'amministrazione Piccitto vinse praticamente ricorso e questi soldi rientrarono. Nel frattempo furono stanziati un milione e quattro dal Ministro dei beni culturali, che però non erano bastevoli per restaurare il teatro. Nel frattempo, che stavamo cercando altre risorse per completare i lavori del teatro, che sono appunto le risorse che sono arrivate in questi giorni con questi due milioni di euro per il quale ci siamo impegnati appunto a valere dei fondi europei, io ho avuto, io allora avevo promesso ai cittadini che avrei sistemato tutti i teatri della città e nel frattempo abbiamo sistemato il teatro Quasimodo dentro la scuola, la sala Falcone Borsellino, l'ideal che non esisteva, praticamente è stato con una convenzione realizzata dall'amministrazione comunale, nel frattempo io con l'allora dirigente Michele Scarpulla incontrai praticamente i proprietari dell'Operapia, perché il nostro intento era quello di acquistare l'Operapia per rimodulare il progetto del Teatro Concordia, per capirci l'Operapia è quel luogo dove adesso l'attuale amministrazione ha aperto il centro commerciale culturale in affitto, siccome l'amministrazione Piccitto aveva detto che avrebbe abolito tutti i fitti passivi e così abbiamo fatto, tant'è che abbiamo spostato l'archivio nella biblioteca che erano locali nostri con grandi risparmi economici, perché ogni anno pagavamo affitti, ora è anche una battaglia che bisogna fare alla Regione, che 5 milioni di Euro si spendono in provincia solo per gli affitti, comunque noi volevamo eliminare i fitti passivi, però io ero favorevole all'acquisto di quello spazio che diventava praticamente funzionale con il Teatro Concordia, nel frattempo incontrai con l'allora assessore centristorici, anche progettisti per parlare di questa cosa, quindi si era avviato un percorso, non eravamo assolutamente contrari al restauro del Teatro Concordia, anche perché io sono architetto, quindi praticamente ne andrebbe contro la mia stessa sensibilità, per me tutti gli immobili che si possono restaurare in centro storico… Però abbiamo perso tanto tempo, forse se avessimo avuto… Abbiamo perso tempo, io poi mi sono dimessa, sono stata solo due anni in amministrazione… Forse è stata dimessa, mi sono dimessa… Si dimessa ma è stata dimessa… E quindi forse avrei potuto portare a termine questa cosa che mi stava ancora… Se il sindaco Piccitto, e chiudiamo perché già abbiamo fatto 20 minuti e passa, se il sindaco Piccitto magari all'inizio invece di fare il difficile, avesse preso a cuore la vicenda, forse oggi lo potremmo inaugurare, o già forse sarebbe inaugurato, sette anni, sei anni… Sì, ma forse i lavori sarebbero rimasti a metà, come tutte quelle famose… E poi si trovavano i soldi… Comunque la cosa importante è che, diciamo, io ricordo che nel 1997 il Consiglio Comunale votò affinché si acquistasse il teatro e si restaurasse, la cosa importante è che tutte le amministrazioni da allora fino ad oggi hanno fatto qualcosa per il Concordia e prima o poi i cittadini… Qualcuno lo farà, ricordo che Chessa le mise i primi soldi, insomma c'è tutta una storia… C'è una storia molto, molto… Onorevole, dobbiamo chiudere, allora abbiamo chiedito un po' questa storia, i fondi non sono come magari ci si aspettava, però sono sempre meglio di niente, questo non c'è dubbio… I fondi, posso dire l'ultima cosa, l'ultima cosa, su 430 milioni di euro stanziati in Sicilia per sistemare la questione idrica, a Ragusa spettano solo 4 milioni, quindi lo 0,7%, e questo ci fa capire il nostro rammarico e perché diciamo che la provincia è la generentola della Sicilia, troppi pochi fondi rispetto alla grande quantità di fondi europei, questa è chiaramente una cosa… Purtroppo lo sappiamo, ma è quello che ha detto lei, siamo 4 su 70 e su questo purtroppo è così. Grazie Onorevole Campo, andiamo avanti con il nostro telegiornale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.